ragazzi oggi giocheremo a un gioco del gioco del gufetto la come cavolo si chiama e oggi giocheremo a questo si mi arrivano dei messaggi ma proviamo che sto facendo il video il video mi doveva mandare i messaggi ok ok iniziamo dal bagno perché non lo so mia madre comincia sempre dal bagno ogni volta che devi pulire si però è così sporco mamma mia e che cavolo sto roba mi pare che sia una canneggina pranzo a mele adesso rimpla rip 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 It's time to show it! Where's the bubblegat? Here's my finger! Here's my finger! I'm falling! I'm falling! I'm a genius! You can feel great! The toys would be fun! It's beautiful! I have to use the money to take my toys It's a panda! It's the lavanderia from the white house Turn it on! Clothes are clean! Pay it, please! You are no longer! It's more white. I don't know! What are they? I'm so rich! I'm rich! I have $470,000 I'm rich to take my legs I have my pocket I have got my pad I cavi da passato, Belly. Mamma mia, andiamo a ammazzare tutte queste moschie. Ah, voi non morite. Ah, poi cado. Mamma mia, che paura. No, no, la lavanderia già l'ho fatta per piacere. E allora perché voglio fare che schifo, che schifo. Cioè, guarda quanto è bello. Tutto pulito, pulito. Ma, pensiamo ai vestiti che stai nuda. Ma non ci sono. Mamma, scusa, ho speso 30, ho speso 370 euro solo per questi jeans di Zara. Mamma, scusa, guarda che bello è il nostro vestito. Ah, ma non so se stavo io che era la di sotto. Un attimo. Magia! C'è pure il mattalone, così. C'è ma costa. Beccata sta cippa. Guarda quanto sono sexy, mamma. Ah, con le scarpine. Devo andare a lì, Kelly. Siamo le lì, Kelly, le più scarpine o io. Con le lì, Kelly, le più car... Cioè, mo... È una bella di... È una bella di bella di... Ancora si muoge... E che mangio degli spaghetti alla soglia senza rime. No, guarda, la riga ho fatto giù. Ciao, io sono eronia, ma nessuno mi capisce. Ma che cavolo, cioè... Nessuno mi capisce. Che c'è? Perché c'è ansia? Dove mi mettere le mie cose? Ho dovuto avere a cash raccino. Wow, você found my toy! Io per il mio compleanno vado al concetto di cali, anche se è il 12 io lo faccio il 19 novembre. Una concetto di cali. Mi cadono tutti i neri. Ah no. Nuo passiamo al frigo, che aia. Che paura. Crettini. Crettini maledetti. Maledetti insetti. Ah ah. Puliamo i scaffali. Ah guardati quanti sono belli. Prima erano così, ora sono così. Domani ho il saggio di danza. Sì. Il saggio è un caurissimo. Adesso mi devo mettere in misera l'anguria, che sennò non vivo. Papà, quando è col te pulito, ho fatto pure la spesa. Guarda, tutte cose buone. Soprattutto più dolci salutari. Ah ah. Questo è il mio siro. Un attimo, così ve lo consiglio pure da comprare. Ed è di Dior. 74 euro. Guardate quanto è pulita casa mia. È più sporca casa tua. Guarda quanto è pulita casa mia. Casa tua fa schifino. Fa schifino casa tua. Torniamo il pesce che muore. Vorrei se non sta dentro l'acqua. Guarda quanto è pulita casa mia. ah vittima che era fuori questa cosa oh mamma mia vado fuori quando ti muovi così oh mamma mia mi rubi il cuore se mi ha tanto se la vi ah era sempre fuori oh mamma mia vado fuori quando ti muovi così oh mamma mia mamma mia mi rubi il cuore se mi ha tanto se la vi che te bella giostra ci sono caduta 37 volte e senza quello che non posso vivere senza mio fratello eccomi no senza nessuno eccomi qua eccomi qua eccomi qua quando vi ho per cominciare il cuore sa cos'è l'amore eccomi qua eccomi qua eccomi qua eccomi qua eccomi qua Con tali io per cominciare il cuore E sa cos'è l'amore Eccomi qua Eccomi qua Eccomi qua Con tali io per cominciare il cuore E sa cos'è l'amore Eccomi qua Eccomi qua No vita le piccole borsellari Guarda Guarda è più pulita Fa così la tua Fa così la tua Fammi prendi sti bastoni Che te li do in testa Come questo mi ha colzetto Lo butto E buttati Ah Almeno vedi Prendere uno Buttarlo in testa A quella cavolo di prof Non i te chiamo prof In testa La La C'è l'anima Rompi 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 Facciamole rendere più rotte di prima Quiero E il rosa del siccia, questo che vuoi ecco devo mettere in gola con l'ansia ok, oddio questo infatti sta l'anguria c'è il frutto cioè non è che sta l'anguria se lo provo, se lo assaggio Roblox ce l'ha brutti cretini mi faccio diventare una fattina vieni 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 Basta raga Ci vediamo Ok ci vediamo nella parte 2 Ciao al prossimo video